Genoa-Cagliari posticipata alle 20.45, molti tifosi giallorossi sentono profumo di biscotto. Un punteggio sfavorevole del Lecce a Torino contro la Juventus potrebbe dare via libera al Genoa contro il Cagliari che se sconfitto sarebbe ugualmente salvo se dallo Juventus Stadium il Lecce ne uscisse perdente. Per motivi di ordine pubblico, su disposizione del prefetto di Genova, la partita è stata spostata a Brescia alle 20.45 di sera. Quando mai? Si è preferito sempre far giocare partita d'alto rischio alla luce del giorno. Oggi intanto il Lecce ha chiesto alla Lega la contemporaneità di Lecce, Fiorentina, Udinese e Genoa a questa gara programmata per domenica alle 15. Stasera intanto i giallorossi sfidano la capolista Juventus imbattuta dall'inizio della stagione. Nelle ultime nove giornate la squadra di Conte ha subito soltanto un gol. Per la squadra di Cosmi si prospetta una sera taccia ma nel bunker della Juventus Catania, Chievo, Genoa, Cagliari, Siene e Chievo l'hanno fatta franca. Altri momenti. Ora tre giornate e dalla fine c'è una Juve indemoniata contro un Lecce comunque tutt'altro che rassegnato. Cosmi, riabilitato in poche ore dalla squalifica, manderà in campo 11 uomini nel tentativo di esorcizzare la capolista. Stasera comunque non si decideranno le sorti del Lecce. Cosmi dovrebbe mandare in campo una formazione con qualche novità rispetto a domenica scorsa. Intanto non ci sarà lo squalificato esposito e l'assenza di Oddo non convocato. permetterà a Carrozzieri di tornare al centro della difesa. In mediana non dovrebbe esserci Giacomazzi mentre in attacco Cosmi si affiderà soltanto a Di Michele con Bertolacce alle sue spalle. Questo è il probabile 11 di partenza. Benassi in porta, Tomovic, Carrozzieri e Milionico in difesa. Quadrado, Blasio, Bodo del Vecchio e Brivio in difesa. Bertolacce, Di Michele in attacco. Juventus-Lecce, la storia calcistica di Antonio Conte. Cresciuto nel vivaio giulorosso, il Lecce di Franco Iurlano lo cedette alla Juve Bonipertiana. Calciatore, capitano e ora allenatore. Un suo gol a Lecce corredato da un'esultanza eccessiva. I suoi trascorsi sulla panchina del Bari hanno sempre alimentato un certo rancore nei confronti del tecnico leccese. Oggi parla da tecnico di una grande società, celando qualsiasi altro sentimento. Che partita si aspetta e a che cosa bisognerà fare attenzione domani? In quella partita il Lecce era già retrocesso. Mancava una sola partita. Già questa ci sono differenze rispetto al passato. E poi dico anche che c'è la storia per farci tenere le antenne dritte. Quindi c'è un'ulteriore indicazione, dato che ci deve far capire che nessuna partita è scontata. Per di più, a differenza di allora, il Lecce si gioca la salvezza in questa partita. La Juve dovrebbe scendere in campo con Buffoni in porta. Barzagli, Bonucci e Chiellini in difesa, Licksteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, De Ceglia a centrocampo, Quagliarella e Vucinic in attacco. Arbitrerà la partita dalle 20.45 Valeri di Roma.